Prego, procedere all'appello, per favore dei consiglieri, prende l'opposto. Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cercuoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, La Daga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Madronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Sono presenti dieci consiglieri, quindi non c'è il numero regale per procedere alla statuta. Chiaramente i punti all'ordine del giorno di oggi, vanno in seconda convocazione, prossimo consiglio. Grazie. La seduta è tolta.